Ci sono almeno 87 persone tra i morti o i dispersi dopo gli attacchi aerei israeliani sul nord di Gaza, secondo il Ministero della Sanità palestinese. Oltre 40 persone sono rimaste ferite negli attacchi alla città di Beit Laia, che è stata uno dei primi obiettivi dell'invasione di terra di Israele quasi un anno fa. Da due settimane Israele sta anche conducendo un'importante operazione nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza, dove a suo dire i militanti di Hamas si sono riorganizzati. Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano continua a colpire la capitale Beirut con almeno 10 attacchi aerei che hanno colpito il soborgo meridionale di Daie che ospita gli uffici di Hezbollah. L'IDF afferma che i suoi attacchi hanno colpito un posto di comando di Hezbollah e una fabbrica di ermi sotterranea a Beirut. Hezbollah ha poi disposto al fuoco con più di 70 razzi lanciati verso il nord di Israele, secondo l'esercito israeliano. Dopo i recenti attacchi da parte delle forze israeliane, i ministri della difesa del G7 hanno espresso la loro preoccupazione per l'incolumità e la sicurezza delle forze di pace delle Nazioni Unite in Libano. In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo il loro primo incontro in assoluto a Napoli, i ministri hanno affermato che la protezione delle forze di pace spetta a tutte le parti in conflitto. L'Unifil è stata istituita nel 1978 per ripristinare la sicurezza nel Libano meridionale. Comprende 10.000 forze di pace provenienti da 50 paesi tra cui 16 dell'Unione Europea e pattuglia regolarmente il confine tracciato dall'ONU tra Libano e Israele. Nei giorni scorsi l'Unifil ha dichiarato che continuerà a mantenere le sue posizioni nonostante gli avvertimenti di allontanamento da parte di Israele, che considera l'organo uno scudo di Hezbollah. Decine di migliaia di georgiani hanno sfilato nella capitale in un corteo a sostegno dell'adesione del paese all'Unione Europea. La manifestazione precede di una settimana le elezioni parlamentari che si terranno il 26 ottobre. Il voto è ampiamente considerato un esame per determinare se la Georgia tornerà nell'orbita della Russia o continuerà il suo percorso pro-europeo. L'anno scorso l'UE ha concesso alla Georgia lo status di paese candidato, ma da allora l'opposizione sostiene che il partito del governo, Sogno Georgiano, abbia fatto deragliare la possibilità del paese di entrare nel blocco europeo. Due recenti atti legislativi, in particolare, hanno destato l'attenzione di Bruxelles. All'inizio del mese, infatti, il presidente del Parlamento georgiano ha firmato una controversa legge sui diritti delle persone LGBTQ+. A maggio, il Parlamento ha approvato un'altra controversa legge, questa volta sugli agenti stranieri, che impone alle organizzazioni dei media e alle ONG di registrarsi come agenti stranieri se ricevono più del 20% dei loro fondi dall'estero. La presidente pro-europea, Salomé Zoravisvili, è da tempo in contrasto con il suo partito, Sogno Georgiano, e si è rifiutata di firmare entrambe le leggi, che sono state inoltre espramente criticate dall'Unione Europea e hanno portato al congelamento del processo di adesione della Georgia all'UE. L'Ucraina afferma di aver colpito una fabbrica di munizioni e un aeroporto in Russia in un assalto notturno che ha visto il lancio di oltre 100 droni su 7 regioni russe occidentali. Il Ministero della Difesa russo afferma che sono stati distrutti 110 droni, 43 dei quali sono stati abbattuti sopra la regione di confine di Kursk. Il governatore della città di Zherzinsk, nella regione russa di Nizhny Novgorod, ha scritto sui social media che quattro vigili del fuoco sono stati feriti mentre respingevano un attacco di droni sulla zona industriale della città, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Un attacco russo contro la città ucraina di Zaporizia ha invece provocato il ferimento di 10 residenti locali nella serata di sabato. L'attacco ha parzialmente distrutto un edificio residenziale danneggiato negozi, un autolavaggio, un magazzino di un centro commerciale e vari veicoli.